Sembra essersi sbloccata la situazione per il nuovo porto commerciale di Molfetta. Ieri mattina conferenza stampa per il sindaco Tommaso Minervini, per noi Marilena Pastore. Sindaco, un atto di indirizzo datato il 27 giugno sblocca di fatto la situazione del porto commerciale di Molfetta. È l'architrave per consentire una auspicabile e verosimile ripresa dei lavori, perché è un input agli uffici per redigere la variante acquisendo il progetto approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e un atto aggiuntivo che consentirà, salvo diverse situazioni o condizioni avverse, la prosecuzione dei lavori. Tutto questo in applicazione del parere dell'autorità nazionale anticorruzione all'ANAC a cui noi come Comune abbiamo richiesto un parere. Concretamente adesso che cosa accade? Accade che gli uffici prepareranno quanto ha disposto l'ANAC, cioè una perizia di variante e un atto aggiuntivo, con delle condizioni che ovviamente saranno confrontate con l'ATCMC e laddove si raggiungerà come mi auspico l'intesa saranno attuate esattamente le disposizioni dell'ANAC e esattamente pedisequamente il progetto di salvaguardia approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Ci abbiamo messo due anni e è stato, mi rendo conto, un lavoro difficile, complesso, questa è una situazione difficile e complessa, ma dovevamo assumerci la responsabilità di fare il dovere dell'agere, come si dice in diritto amministrativo. Sarebbe stato molto più colpevole non fare niente e lasciare degradare questa grande opera pubblica. Tenete conto che il 2 luglio presentiamo la Zessa Molfetta, c'è la zona di economia speciale, per cui il porto è fondamentale per rilanciare l'intero tessuto economico della città. È una situazione molto complessa, come capite bene, non sono in grado di dare tempi certi, posso auspicare soltanto che entro la fine dell'anno si possa riprendere i lavori.